amici buonasera e benvenuti allo zibaldino un saluto affettuoso agli spoletini agli umbri a quanti ci seguono da roma e con il digitale ricordo poi che è possibile recuperare le trasmissioni dello zibaldino andando su internet e cliccando zibaldino.com ormai sono sei puntate che abbiamo scaricato su internet quindi anche andando a ritroso sarà possibile visionare questa piccola trasmissione e adesso avviamo subito lo zibaldino nel segno di che cosa ma di un fatto molto importante di una sorta di record negativo che ha caratterizzato l'umbria lo scorso anno le morti bianche recentemente il comune di campello ha lanciato un bel concorso dal titolo tornare a casa dal lavoro e sì perché ogni lavoratore vuole tornare a casa deve tornare a casa dopo il lavoro e il lavoro non deve costare la vita noi su questo argomento abbiamo sentito un compositore un cantante spoletino che proprio su questo argomento ha scritto una canzone paolo durso l'umbria ha quasi il record nazionale delle morti bianche quindi anch'io ho pensato che fosse doveroso dire qualcosa allora ci auguriamo che nel 2011 cessi questa sorta di primato basta con le morti bianche le morti sul lavoro tu hai scritto questa canzone parole e musica le parole come fanno paolo durso c'è chi grida perché ha avuto un incidente non in auto ma sul posto di lavoro c'è chi grida perché un ricco possidente per quel problema ora perde il suo tesoro ci sono voci che non riesce a sentire perché gridano troppo piano ma sono voci che se potessero dire fanno venire giù i palazzi di milano senti la musica che può fare secondo te anche in casi del genere aiuta a far maturare le coscienze la musica può sensibilizzare certo è un messaggio diretto un messaggio forte un messaggio che arriva a tanta gente insomma senza lì di età iniziamo l'anno con questo messaggio che smettano una volta per tutte le morti bianche la musica è sempre il genere tuo preferito quello che hai portato a spoleto reggae reggae con derivazione da ab elettronica questo questa è una premiere questo è un pezzo che non è non fa parte dell'ultimo disco ma uscirà in una compilation intorno a febbraio 2011 è una compilation appunto dedicata a tutte le persone che sono morte in ambienti di lavoro 10 anni chiuso in cattività la sua vita l'ha passata dietro un muro c'è chi grida perché ha avuto un incidente non in auto ma sul posto di lavoro c'è chi grida perché un ricco possidente per quel problema ora perde il suo tesoro ci sono voci che non riesci a sentire perché gridano troppo piano ma sono voci che se potessero dire fanno venire giù i palazzi di milano